Il sole, il nostro sole quando è calmo è neanche una specie di vetto, un fuccio Poi quando sta là piace, quando c'è attività, ci sono macchie solari Allora da dei crepitini, dei fischi, come quando s'alza troppo il volume della radio E' perché le onde radio sono della stessa natura della luce E' soltanto che alla luce sono sensibili i nostri occhi Quindi non abbiamo bisogno di particolari strumenti per vedere le stelle Le onde radio sono della stessa natura della luce, sono molto più lunghe E per rivelarle si usano dei ricevitori analoghi a quelli della radio Le pulsano, c'è queste stelle di neutroni molto dense che emettono dei pip 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 Perché ruotando rapidamente tutte le volte che il loro asse magnetico è diretto verso la Terra Noi riceviamo un flusso di radiazione e quindi sentiamo un rumore che dura una frazione brevissima di secondo Perché ogni rumore arriva in periodi e sono inferiori al secondo Del centesimo, del millesimo di secondo, al massimo del secondo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!